Musica Ah qua ci dovremmo mettere il solito armadio dove metterà a cogliere poi le batterie quando non le stiamo usando Sì decisamente Ah vediamo un attimo il tempo che scemo questa cosa non lo guarda Quanto ci vuole? 8 minuti per il micro raptor Ah e 8 minuti anche per l'oveto di ornitorinco Ah ok va bene Quindi non ci dobbiamo allontanare troppo Potremmo anche far accoppiare qualche altra creatura nel frattempo Anzi ascolta invece di fare cacchiate che poi ci ritroviamo con 30.000 bestie Che partoriscono e no non ce la facciamo a seguirle per ridarmi la sella grazie Uh aspetta ma tu c'hai metallo Lillo Ah c'hai metallo me lo devo ricordare Mettiamo al nostro amico Excalibur O la nostra amica Excalibur La selluccia e la posizioniamo qui Così la parcheggiamo e noi facciamo questa cosa di far allevare a lei tutti i cuccioli A tal proposito Ah è vero c'è questo problema Io mi dimentico sempre Da nascere L'ha risolto Aspetta che ti metto altro cibo Prestito L'avevo già riempita di baccucce e roba varia E aumentiamo L'efficacia Del babysitteraggio Molto bene E noi adesso ci piazziamo qui e semplicemente aspettiamo In maniera molto paziente Ma ti dirò nel frattempo ne approfittiamo E noi ci costruiamo l'armadio e un po' di luci Vai un po' di luci Quante ne puoi fare? Sette Facciamone sette Illuminiamo molto bene la zona Allora ci mettiamo l'armadio qui a fianco Molto benissimo Batterie a chi? Quanto manca? Quattro minuti e mezzo Molto bene Abbiamo tutto il tempo del muro Non è vero Ma non importa Facciamo intanto una lucina qua fuori Molto bene Una lucina anche qua dentro Quasi quasi io me la piazzo Non si vede mai una ciffa Ne mettiamo due qui Aspetta però Ok Ah magari è meglio se Chiudo la porta poi Ah perfetto Stanotte non dovremmo avere problemi di illuminazione Ne potrò mettere anche una qui Sì posso Non ha molto senso Però lo facciamo Perché così riusciamo a vedere anche questo banco Con i mortai E a questo punto Allora mettiamo Già che ne abbiamo ancora un paio Forse una Una lucina Anche lì Ah qui Molto benissimo Perfetto Per ora direi basta Poi ci pensiamo Ah che scema E qua dentro una luce Non ce la vuoi mettere Almeno una E dove la mettiamo a sto punto Ne metteremo una di qua E poi ne faccio un'altra E la metto per di qua Sì Allora aspetta Facciamo prima per di qua Così Molto bene E dopo Ne faccio una E la metto da questo lato Ah perfetto Meno male Sì perché in effetti Non avevo mai fatto torce Niente E comunque Mi sa che A breve Costruiremo una seconda base Magari nella parte Con le creature R Sì Non mi dispiacerebbe Non mi dispiacerebbe Vorrei fare qualcosa Di molto più grande Più maestoso Più glorioso Manca pochissimissimissimissimo Pochi secondi Pochi secondi Uh No vabbè Ma è gigantesco Che bellino Aspetta No Dov'è l'altro piccolino Aspetta Aspetta Vi devo imprintare Ok Molto bene Dov'è quello scricciolo No Il micro raptor È super micro È super micro Ok L'ho imprintato Aspetta che gli da prima La pappa Che mi sembra molto debolino Lui Ok No vabbè Quanto è minuscolo Allora Un pochino Anche al cucciolo Di ornitorinco qua E anche all'altro Che mi sembrano uguali Di colore Sono gemellini No vabbè Che bellini Ok Ok aspetta Vi deve Adesso si deve Prendere cura di voi La signorina qui Mi riuscite a seguire? Signori Riuscite? Ok Allora uno ce l'abbiamo fatta Vediamo se riusciamo A farglielo già A chiappare No Non lo vede ancora Dannazione Dovete venire Più in qua Più in qua Ok Vai Prendi il micro raptor Vai Prendi uno Prendi anche l'altro Là Là Uno dopo l'altro Li ha presi No scusa Fammi rivedere Però devo vederli No il micro raptor Non si vede Ma poverino Aspetta Scusami Lilla Dobbiamo uscire Un attimo qua No ma guarda Che bellini Ce l'ha tutti Nelle ceste No ma poi Sono adorabili No poi il fatto Che abbiano Praticamente Lo stesso musetto Cioè guarda Cioè hanno Il musetto identico Sono tenerissime Oh che carine Aspetta Ti rimetto Dove devi stare Stanno tutti Nutrendo Molto bene Magari ogni tanto Controlliamo Lo stato di scorte Della nostra Baby sitter Qui Aspetta Fammi vedere Come Ok Così dovremmo Riuscire a scendere Molto bene Cos'era Cos'è volato via Non era micro raptor Ah no È uno di quelle bestiace Mamma mia Pensavo fosse sceso Un micro raptor Oh molto bene Che bellino No scusa Ma tu riesci a prendere Anche un bronto Lo testeremo Immediatamente No no Aspetta Sei bloccato Tesoro Tu sei bloccato Tra i miei bronto Sei bloccato Tra i miei bronto Sei a livello 42 Ma Ci proviamo Vediamo se è veramente Molto bloccato Ciao Eh non ti arrabbiare Non ti arrabbiare Non ti arrabbiare Sei bloccato Sei bloccato No è ribloccato Aspetta No Ce l'abbiamo Per davvero Non ci credo No ma Vedete quanto è facile Prendere ste creature Cioè si incastrano ovunque Ovunque Molto bene Allora aspetta Vediamo di prendere Un bel po' di cibo Da qui Direi che dovrebbe bastare Alla stragrande Dov'è lei scusi La pappa Molto bene Adoro queste bestialine Ok I miei due bronto Che sono messi esattamente Nella stessa Perfetta posizione Da notare Allora Abilità copiamento a te Abilità copiamento a te Poi che ci rimane Solamente il rex Da far accoppiare Non te Ecco peraltro Sì Troveremo una compagnetta Anche per lui O per lei Non mi ricordo Per lei Troveremo un compagnuccio Anche per lei E gli allosauri Che sono due femminucce Quindi niente Al massimo Le faccio adottare Vediamo allora Di prepararci Un'altra sella Così possiamo avere Una seconda babysitter All'occorrenza Aspetta qua Chiudiamo la porta Sennò I due micro raptor Rischiano di uscire Cosa mi manca? Pelle Ma davvero manca pelle? Avevo messo pelle qui? Sei La Detto fatto E vediamo di che livello Arriva A che livello Arriva questo Questo ornito linco E poi La stella la mette A lui Lei Stavo pensando di dargli Un narcotico Ma forse non lo sai Vabbè dai Un paio Giusto per Uno E due E tre Dai perché siamo generosi Aspetta Ho vetto Ho vetto Ho visto movimento Sì Ho vetto Ho vetto Ho vetto Ho vetto Ho vetto Qui signori Tutto bene State mangiando Come andiamo? Sì Molto bene Ho vetto E mi dimentico sempre Di quanto è gigantesco A cavolo Non passerà dalla porta Dovrò buttare giù Un paio di pareti Mi sa E a sto punto Già che ci siamo Mi sa che facciamo Accoppiare anche i rex I cuoricini ci sono E dov'è la barretta? No Posso Fai vedere la barretta Fai vedere la barretta Cribbio Ok ci vorrà un pochino Molto bene Tanto per il brontosauro Ci vuole tipo mezz'ora Nel frattempo Allora controlliamo anche Se si è domesticato No Mi sa di no Non vedo scritto Però in piedi Aspetta Forse Sì si è domesticato Yeah Ne abbiamo un altro Che è di livello 62 Non mi ricordo di là Di che livello sono Aspetta Lillo Seguimi Vieni per di qua Là Guarda quanti invasori Sempre più grossi Mamma mia Pena posso Li faccio andare via Tutti gli ammazzuti Mi sta seguendo Sì Mamma mia Che velocino Ah è uguale a questo qua Più o meno No Non è vero Sono molto diversi Vabbè No la base è uguale Dai la base è uguale Quindi abbiamo un altro 62 Un 38 Un 34 E vabbè Non so con chi farti accoppiare Però Vabbè vedremo Dai lo decideremo Lo decideremo poi Più poi Per ora Per ora Mi sa che mi tengo Solo gli altri due Che Stanno crescendo adesso E cuccioli di Ornitorinco Per ora Non ne facciamo altri Sennò veramente Un'invasione Lalla che è breve Abbiamo anche L'ovetto di Rex L'acqua Vediamo qui Quanto tempo Ci vuole Qualcosa di 33 minuti È pronto 29 minuti Mamma mia Ma è tantissimissimo Tempo Mamma mia La carne Qui Quanto va via In fretta Abbiamo fatto Un po' di stragi Di bestie Con il Rex Tec Non so se si è notato Ah mamma mia La carne è andata via Alla velocità Della luce Eh Lassi mangioni Ora faccio fuori Anche questo Perché non lo sopporto più E a sto punto Già che ci siamo Mi sa che Creiamo le mangiatoie Che non si creano qui Ah ok Ah e si creano qui E mi serve Fibra, legna, metallo Paglia Ah mi manca Il metallo Non lavorato Aspetta Qua ne ho No Qua ne ho Sì Vediamo se riusciamo A farne un'altra Sì Mamma mia Quanta legna Però che l'hai chiesto Là Guarda Ne mettiamo Una Da questa parte E una Da questa O dall'altra E qui ne servirebbe qualcuna Per le bestie qui In realtà Eh vabbè Per ora mettiamo queste due Poi ci pensiamo Poi ci pensiamo Guarda come facciamo fuori anche il bronto Gli abbiamo tirato un dardo narcotizzante Per attirarlo di qua Vieni Lontano Così non mi intusini le creature Molto bene Può dire che può andar bene L'attacosanguinamento Me l'avete detto che lo fanno solo quando sono in coppia Oh no Un po' io di creature le ho disturbate Vabbè Vabbè Sì Ok Molto bravi ragazzi Complimenti Non c'era bisogno Però grazie per l'aiuto Sì però Rex Dai non mi lasciare il fianco scoperto E su Cioè capisco che il bronto Il bronto non le capisca di ste cose Però tu Cioè da Rex Mi aspetto un pochino più di iniziativa C'è da dire C'è da dire Che con le lucine Sì Cambia decisamente tutto Cambia decisamente tutto Peraltro abbiamo dovuto Accendere anche il terzo condizionatore Perché i signorini qui Avevano freddo Ah guarda no No il Rex c'è ancora freddo Aspetta se chiudo la porta Cambio qualcosa No ancora troppo freddo Ma per davvero Eh No aspetta allora Lo raccolgo E aspettiamo che faccia giorno Porca miseria Invece al bronto Per ora va bene Ok Ascolta ma se provo ad accendergli un fuoco Giusto per aiutare i condizionatori Magari funziona Dobbiamo apprezzare un fuoco Dobbiamo apprezzare un fuocarello Ottimo Da questo lato Aspetta fammi spostare Ah no Troppo freddo Che l'aveto del bronto Porca puzzola Aspetta Stai accendo fuoco Ok Stai accendo fuoco va bene Stai accendo fuoco va bene Quindi presumo vada bene Anche per lui Non proprio sopra il fuoco magari No ancora troppo freddo Troppo lontano dai condizionatori Dannazione Che faccio Faccio un altro fuoco Non lo so Ma tu sei sicuro Che a te va bene Sì a te va bene Aspetta provo a mettere qua l'aveto di Di Rex Proprio attaccato Attaccato ai condizionatori Sì Incubazione Altri 25 minuti però Cavolicchio la vita dell'uovo È scesa tantissimo Chissà da quant'è che aveva freddo Io pensavo di aver risolto Col terzo condizionatore All'inizio mi sembrava Che mi dicesse in incubazione Evidentemente no Va bene Quindi a breve pronto 8 minuti E poi 25 minuti Per il Rex Che si fa attendere il signorino Là E abbiamo anche il nostro Piccolo pronto Piccino Lui piccino Mica tanto Aspetta 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 Un po' di pappa Gliela do subito Vieni prima di diventare gigantesco Vieni Lillo Aspetta Seguimi da molto 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 vicino Da molto vicino Ho detto Perché non mi segue Questa bestia Ma non sei incastrato Col fuoco No Perché non mi segue Ma è l'ovetto Che ti dà fastidio Aspetta Te lo tolgo No Non c'è verso Non mi segue Ma perché Ascolta Proviamo a distruggere Sto fuoco Ok Così si muove Uh Aspetta Ci sono Tutti Le bestioline Qua Che sono cresciute Aspetta Aspetta Vieni 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 più Un qua Oh Mamma mia Che macello Mamma mia Che macello No Aspetta Aspetta Scusa Stai qua Stai qua Stai qua Questa cosa Non l'avevo prevista Ciccio Tu riesci a seguirmi? Sono cresciuti Sono cresciuti Tutti No Sono bloccati male Sono bloccati Molto Molto male Ok Dammi la sella Qui veloce Dammi anche un po' di queste Che nel frattempo Nutrirò io Il bronto Allora Questo Lo spostiamo Qui Ok Ah Mi ha seguito Anche questo Perché? Non lo so Ma va bene State fermi qua Ok Questo è messo Proprio tanto male Tanto Tanto male Riusciremo a sbloccarlo Sì Ok Anche tu qui Lì ce n'è uno Ma non è mio No Quello non è mio Ok Ok Cici Vedi di uscire Prima di diventare gigantesco Dai puoi farcela Dai puoi farcela Te lo giuro Ti prego Ok Bravo patatone Bravo patatone Ok Vediamo se riesci a prenderlo Vai No Ha preso il bronto Ma non ci credo Ma guarda Ma è minuscolo Ma perché? Ma perché? È piccolissimo Vabbè Vabbè Eh Aspetta Mi manca un micro raptor Sì eccolo qui Eccolo qui Ciao piccolo Vieni che Ti metto Dentro la casetta Insieme a mamma e papà Quello è compenetrato malissimo Vabbè Buonasera Arrivederci Ok Bacche direi che Ne hai vero Lino Sì Ne hai un sacco Dammi un po' di carne Per quando arriverà Il nostro piccolo Rex E mancano Solo undici minuti Molto molto Oh Finalmente abbiamo anche Il nostro piccolo Rex Che patatone Che è dolcissimo Ma che bellino Che colori Mi piacciono molto Aspetta Aspetta Ti do Papina Ti do papina Ok E ora mi dovresti Seguire Qui Qui Dimmi che ce la fai Ti prego Dai Bravo Così No 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 Stai andando da una parte Tanto sbagliata Prova un po' più così No Per di Dove Cribbio Stai andando Seguimi Mi fai passare Mi fai passare Riesci a girare No non ce la può fare Non ce la può fare Così Allora Vieni più in qua E ste acrobazie Ste acrobazie Aspetta che ti chiudo la porta Ok Ok Dai Dritto così Molto bene Fermo Fermo A posto A postissimo La Dov'è 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 No È lassù Ma è piccolissimo No Vabbè Ma quanto sono carini Sono minuscoli È bellissimo Va bene ragazzoli Allora Per questo episodio Di Ark Direi che è tutto Mi raccomando Lasciate un bel like Se il video vi è piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Baccio e braccio a tutti Ciao ciao